Allora ragazzi, carte, conti, carte prepagate, eccetera eccetera eccetera. Sapete che io sono un amante e ne ho provate veramente tante, perciò mi avete sempre chiesto qual è la mia carta preferita. Oggi con questo video voglio darvi una risposta. Se dovessi sceglierne soltanto una, parlando di carte per persona fisica, sceglierei Revolut Metal, che copre il maggior numero delle mie necessità. E questo vuole essere un video dove vi faccio vedere per cosa la utilizzo e qual è il ruolo che va a ricoprire all'interno del mio arsenale di carte e conti. Poi per me è un video anche un po' romantico perché sono passati più di due anni dalla mia prima recensione di Revolut e il loro servizio da allora è cresciuto infinitamente. E anche per me nel frattempo sono cambiate un po' di cose. Lì mi trovavo nella mia bellissima cameretta dal Bignasego, ora mi trovo a Londra. In realtà speranzoso di iniziare a vivere questa città. Ma tutto questo è un altro discorso, torniamo alla carta. All'epoca era questa qui, poi è arrivata questa, dopodiché è arrivata questa multicolor, ho provato questa qui e siamo passati alla Metal e ho provato questa qui. È arrivata sempre Metal anche questa, ho provato questa, mi è arrivata anche quest'altra carta sempre Revolut, ho provato un'altra versione Metal sempre di Revolut ed infine questa. Sì, diciamo che ho avuto modo di provare il loro servizio. Ah, aspettate, è appena arrivata un'altra, eccola qui. Comunque in questo momento sto usando il loro conto Metal che ha una moltitudine di funzioni enorme. E oggi non voglio stare qui ad annoiarvi guardandole tutte perché non ce ne sarebbe nemmeno il tempo, ma come vi dicevo voglio mostrarvi le funzioni che utilizzo per la maggiore e che me l'hanno fatta scegliere. La funzione o servizio più importante per me è la possibilità di avere conti in multivaluta. Ragazzi, essendo un italiano a Londra ho a che fare continuamente con euro e sterline, quindi non posso vivere senza avere un conto che accolga entrambi. Poi in realtà di valute che si possono aggiungere ce ne sono una sfilza, per esempio ora aggiungiamo new dollaro australiano ed ecco il mio conto in dollari australiani. Però il conto multivaluta ha valore se le commissioni sul cambio sono basse, cosa che ovviamente accade su Revolut altrimenti non starei facendo questa scelta. Cambiamo un po' di euro in sterline, exchange, euro sterlina e compriamo 10 sterline. Vai, cambiate. Eccole qui con il nostro bel tasso di cambio, poi in realtà avremmo anche potuto guardare il grafico del cambio sterlina euro e valutare se cambiare o meno in base al valore della sterlina. Per questo servizio sul piano gratuito fino a 1000 euro al mese non ci sono commissioni sul cambio, che quindi viene fatto con l'exchange rate interbancario. Con il piano metal invece non c'è limite sulle cifre che possono essere scambiate. Poi per il mio tipo di utilizzo, acquistando spesso da siti particolari, anche per testare, spiare e prendere spunto da servizi, sas e e-commerce esterni. La carta non deve avere commissioni sul pagamento in diversa valuta, deve avere la possibilità di creare carte virtuali. Se ha una qualche assicurazione sul pagamento, tanto meglio. Nel caso di Revolut Metal tutti questi punti vengono coperti, mentre per il piano gratuito solo il primo. Considerate comunque che con tutti i piani in pagamento avete la protezione sugli acquisti, sui biglietti per gli eventi e l'estensione sui resi. Io rimango più che sereno e soddisfatto con la metal. Poi, se volete confrontare i vari conti per capire quale fa il caso vostro, qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link per approfondire. O anche solo per provare il loro piano standard gratuito da cui sono partito anch'io. Ora, andando avanti con quello che utilizzo e quelle che sono le mie esigenze, velocità. Il bonifico bank transfer deve, sì nel 2021 deve, essere gratuito e rapido. Altrimenti per quel che mi riguarda sono come minimo 10 punti in meno. Qui, sia per il conto standard che metal è così, ma attenti perché ci sono dei limiti per i wire transfer fuori dall'area SEPA. Poi ovviamente vi consiglio di leggere i termini e condizioni per avere tutte le informazioni dettagliate. Comunque, altre caratteristiche di cui io approfitto molto, cashback. Per il piano metal, su tutti i pagamenti con carta, c'è un cashback dello 0,1% in Europa, che diventa addirittura dell'1% fuori dall'Europa. Ora vi faccio vedere ciò che ho accumulato negli ultimi giorni. Metal cashback e facciamo un withdraw. 0,23 withdraw. E abbiamo prelevato i nostri bei 23 centesimi di cashback. Tra l'altro, da poco, se siete interessati al cashback, hanno aggiunto su Revolut tutta una parte di rewards che vi permette di avere sconti e cashback aggiuntivi se acquistate da determinati siti o merchant. 2. Secondo, accesso alle lounge. Purtroppo però è da un po' che non si utilizza questo servizio. Comunque, all'interno dell'app potete acquistare pass per le lounge in oltre 1000 aeroporti a prezzi scontati. E se avete un conto premium o metal e il vostro volo è in ritardo di almeno 60 minuti, potete avere rispettivamente due o quattro accessi alle lounge aeroportuali per voi e i vostri amici. 3. Vols con interesse e statistiche. La prima è una funzione che esiste solo in UK. Qui, Revolut offre la possibilità di avere Vols Easy Access con un interesse. E cosa vuol dire? Dentro l'app c'è la possibilità di depositare soldi su una particolare sezione, dove ci vengono addebitati giornalmente gli interessi. In questo momento sono allo 0,4% lordo, ma fluttuano anche in base alla situazione economica. Qualche mese fa, per esempio, erano allo 0,7%. La cosa meravigliosa è che questo vault è Easy Access. Ciò vuol dire che posso prelevare e depositare soldi quando voglio e la cosa è istantanea. In ogni caso, pur non essendo ancora disponibili gli interessi sui salvadanai in Italia, potete comunque usarli per mettere da parte i vostri soldi in modo facilissimo. Tutti i soldi e tutti i movimenti che faccio a livello personale passano per di qui. Cioè, arriva lo stipendio, arrivano dei dividendi, arrivano i soldi dalla nonna. Di qui passano. Magari per un po' di tempo rimangono nel vault con interesse, fino a che non inquadro precisamente cosa fare con quei soldi. Poi, una volta capito, possono finire sul mio conto di investimenti o sull'acquisto di una società o su n altre cose che man mano posso valutare. Qui non stanno molto perché sono in un periodo della mia vita dove i soldi cerco di farli girare e li rischio continuamente e consapevolmente per avere continui ritorni. Perché ora, da 23enne, senza famiglia e figli, posso permettermelo. Un domani magari le cose cambieranno. Tanto per farvi capire, anche se stavo valutando se farlo vedere o meno per mantenere un po' di privacy, ma vabbè. Andiamo sulle statistiche che spesso frequento, come vi dicevo, e vi faccio vedere annualmente i soldi che transitano qui. Nei primi tre mesi di quest'anno sono transitate circa 22.000 sterline. L'anno scorso sono transitate 174.000 sterline. Due anni fa, nel 2019, 9.800. E tre anni fa, quando aprì la carta, 40 sterline. Sia chiaro, io non spendo queste cifre annualmente. In questo conteggio, tutti i soldi in uscita vengono considerate spese, anche se il 90% di questi soldi in uscita sono bonifici in uscita in altri conti o altre transazioni, come vi dicevo. Poi, se avete esigenze simili alle mie, dove avete a che fare molto spesso con diverse valute e volete avere una soluzione veloce, intuitiva, intelligente, digitale ed online, Revolut è la soluzione perfetta. Aggiungerei anche le 5 stelle per quel che riguarda la parte di viaggi, tra assicurazione per i conti premium e metal, spese in diverse valute, prelievi gratuiti, più tutte le funzioni smart in caso di smarrimento o furto della carta. In ultima, considerate che Revolut opera in diversi paesi con licenza di moneta elettronica. La licenza bancaria, che è di recente stata introdotta in altri 10 mercati europei, non è ancora attiva in Italia. Quindi dovrete utilizzare altre soluzioni se avete bisogno di prodotti che abbiano licenza bancaria. Comunque, Revolut, l'azienda, cresce rapidamente. In meno di 6 anni hanno già raggiunto 15 milioni di clienti. Perciò, con ogni probabilità, in futuro ci saranno nuovi sviluppi anche su questo fronte. Infine, ditemi voi cosa ne pensate di Revolut e magari nei prossimi video andiamo anche a parlare di quali sono le altre soluzioni che completano il mio arsenale per le diverse esigenze. In descrizione trovate tutte le risorse e nel caso vogliate provare ed attivare un conto con Revolut, io partì due anni e mezzo fa con lo standard gratuito e da allora ho fatto tutti i livelli. Detto questo, lasciate un mi piace se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, iscrivetevi se non volete perdervi tutti i futuri video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!